La nutrizione nei primi anni di vita rappresenta un aspetto di primaria importanza nel favorire lo sviluppo del sistema immunitario e nel potenziarne le attività. Le matrici fermentate con microorganismi accuratamente selezionati costituiscono una promettente ed innovativa frontiera nel campo dell'alimentazione pediatrica. Il professor Fabio Mosca, direttore del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale del Policlinico Mangiagalli di Milano, nonché presidente della Società Italiana di Neonatologia, è uno dei pionieri negli studi sulle matrici fermentate. Ci sono già delle evidenze solide, anche con grandi contributi di gruppi italiani a cui abbiamo partecipato anche noi, degli studi clinici, il primo in particolare in bambini tra un anno e quattro anni di età, in cui abbiamo avuto la possibilità, dando le matrici fermentate nel periodo invernale, di dimostrare una riduzione significativa e molto evidente, parliamo di riduzioni del 40-50% del tasso di infezioni sia del tratto respiratorio che del tratto gastrointestinale. Quali risultati avete conseguito in Mangiagalli sullo studio di utilizzo delle matrici fermentate sui neonati da 0 a 3 mesi? Sull'onda un po' dell'entusiasmo dello studio nei bambini tra 1 e 4 anni abbiamo pensato di vedere gli effetti anche nel neonato, perché comunque l'effetto principale delle matrici è quello di immunomodulare il sistema immunitario e quindi nel neonato, che parte un po' depresso dal punto di vista immunitario, potrebbe essere di grande utilità. Abbiamo fatto questo studio, i neonati sani a termine che non potevano prendere il latte materno e quindi avevano necessità di utilizzare un latte formulato, li abbiamo studiati per tre mesi. Lì non abbiamo misurato le infezioni, perché fortunatamente trattandosi di neonati sani nei primi tre mesi di vita non ci sono infezioni, ma abbiamo studiato gli effetti biologici delle matrici fermentate sul sistema immunitario e abbiamo visto anche in questo caso che le matrici fermentate stimolano sia l'immunità innata che l'immunità acquisita, facendo per esempio aumentare le monoglobuline A, che sono un po' la prima difesa misurata appunto raccogliendo le feci di questi neonati. Grazie a tutti.